ciao a tutti torna dalla key master che ritorna con un'analisi di una mitica partita una miniatura del grande bobby fisher siamo nel 1963 l'americano era informissima e vediamo com'era andata questa battaglia contro il gm paul benko che ha dato comunque sia il suo nome ad una variante taglientissima che prevede un sacrificio di pedone col nero in b5 poi in a6 chi non la conoscesse invita a farlo perché ne va la pena il buon bobby ovviamente quella che succede qui il buon bobby ovviamente apre quattro il nero ha scelto comunque sia un impianto moderno che prevede il pianchetto direi subit vediamo come l'impianto sia quello di una pierce qui il grande bobby come era solito fare contro la pierce gioca l'attacco austriaco che prevede i tre pedoni e4 f4 e d4 subito ad occupare il centro cavallo f6 si sviluppa un pezzo e si preme su e4 il motore da già un vantaggio robusto al bianco cavallo f3 mossa di sviluppo che difende d4 sostiene e5 e libera la strada all'arrocco del bianco arrocco del nero e qui il buon bobby continua con alfiere d3 vedremo come la spinta in f5 diventi cruciale grazie anche all'azione di questo alfiere alfiere g4 si inchioda il cavallo f3 alla donna in d1 vediamo che comunque sia centesimo dopo centesimo il vantaggio del bianco aumenta il grande campione americano interroga l'alfiere è il nero per avere anche qualche pezzo in meno da sistemare in poco spazio cede volentieri in f3 il suo alfiere campo chiaro e qui un passo dopo l'altro il bianco si è quasi guadagnato un punto intiero di vantaggio cavallo c6 si preme sul pedone d4 che al momento non conta più sulla difesa della donna d1 alfiere e3 si sviluppa un pezzo e si difende il pedone d4 sotto attacco e5 tipica reazione al centro si preme su f4 e su d4 si conta anche sull'alfiere di re in g7 e sul cavallo in c6 molto interessante il gioco del nero il bianco in vantaggio di spazio apre la colonna d e qui arriva la bomba f5 f5 è fortissima piace un sacco si libera la strada all'alfiere in e3 si minaccia l'apertura della colonna f premendo anche sul cavallo f6 e qui qui cominciano i guai g per f5 g per f5 donna per f5 e vediamo come il pedone f7 ma anche il cavallo f6 diventino obiettivi di attacco veramente importanti per il grande bobby per il quale veramente nutro una stima enorme sicuramente come giocatore poi tutti conoscono anche un po le sue idee che hanno suscitato grande scalpore però dal punto di vista del bobby giocatore non si può negare che è stato veramente un gigante poi sul bobby umano si potrebbe aprire un enciclopedia ma non è questa la sede almeno questa volta per parlarne parliamo piuttosto di questa gemma che vede il bianco all'attacco contro un forte gm donna f2 si preme su d4 e continua la pressione sul cavallo f6 il controllo della casa f5 è triplice al momento e si fa sentire tutto qui il nero punta in tutti i modi a spingere in f5 ma il bianco farà il possibile per non consentirglielo anche l'arrocco corto vede subito in gioco la torre f1 a sostegno della casa del controllo della casa f5 qui ormai siamo ben sopra il punto di vantaggio per il bianco cavallo b6 la funzione è sempre quella di spingere in f5 cosa che scioglierebbe un po il gioco del nero questo pedone ricchiola e anche tanto donna g3 e qui attacco diretto al monarca in g8 si inchioda l'alfiere g7 che in alcune varianti un gigante l'alfiere di re in fianchetto ma al momento sembra soltanto un comodo bersaglio per la donna in g3 3 h8 per ovvi motivi ci si vuole svincolare dall'inchiodatura dell'alfiere g7 donna g4 nuovamente il bianco manovra per controllare la casa f5 c6 credo che la funzione sia quella di controllare le case b5 e d5 e in alcune varianti liberare la strada alla donna d8 sulla diagonale d8 a5 donna h5 e qui vediamo come prima ci sia pressione sulla f poi sulla g e adesso si punti direttamente attraverso la colonna h al pedone h7 qui son guai donna e 8 l'idea è quella di spingere il pedone f proponendo un cambio delle donne cosa che alleggerirebbe di molto la posizione del nero e qui vediamo come la variante migliore per il bianco sia costituita dal fiere per d4 il buon americano non se la fa sfuggire cambia in d4 il nero riprende in d4 e qui arriva il mossone che vale sicuramente l'analisi di questa partita famosissima sicuramente in molti già la conoscono a ogni modo ho ritenuto opportuno condividerla per chi la conoscesse per rivederla perché veramente uno spettacolo e per chi non la conoscesse per far capire con una tra le tante perle legata al mondo degli scatti quanto questo gioco sia splendido qui arriva un fulmine a ciel sereno che torre f6 guardate che meraviglia la rifaccio rivedere guardate che meraviglia questa mossa la funzione di questa mossa è estremamente semplice impedire la risorsa difensiva del nero legata alla spinta del pedone f7 che proporrebbe il cambio delle donne è chiaro che in questa posizione la minaccia e 5 con attacco diretto al pedone a casette diventa inarrestabile regiotto questo cavallo dire che avvelenato è poco è ancora e 5 e con i cinque si spalanca la strada all'altiere di tre che il bianco ha mosso in apertura e da lì non ha mai più mosso e vediamo quali siano gli effetti di questo alfiere bestiali qui h6 è l'unica che ritardo un po il matto e qui dopo h6 cavallo e 2 cavallo e 2 e si abbandona come minimo il nero perde un pezzo c'è l'attacco diretto al cavallo d6 e c'è anche la minaccia torre per h6 vediamo ad esempio la variante che secondo il motore offre maggiori chance di resistere legata a c5 su c5 segue torre per d6 donna per e5 donna per e5 alfiere per e5 torre d5 game over il bianco semplicemente rimane con un pezzo in più vediamo l'altra variante quale era dopo c5 era donna e7 e di nuovo qui abbiamo un mossone qui addirittura il bianco all'imbarazzo della scelta ma in questa posizione la più forte sembra beh torre h6 pure a me sembra la più umana in qualche modo torre h6 brutalmente si minaccia torre h8 alfiere h8 donna h7 matto il nero deve accettare la cattura della torre in h6 donna h6 f5 donna d6 e anche qui il bianco dilaga qui il motore suggerisce questa linea ma di nuovo è assolutamente vincente per il bianco bianco che si ritrova al momento con un pedone in più vero è che questo cade però di fatto i due pezzi leggeri compensano abbondantemente superano il valore di una delle torri dell'avversario qui tra l'altro sia anche cavallo g3 che picchia su f5 in caso di f4 cavallo f5 si sostiene d6 e sarebbe solo una questione di tecnica sarebbe stata solo una questione di tecnica per il grande campione americano e spero che la visione di questa partita abbia fatto piacere anche solo ad uno di voi ne sarebbe comunque valsa la pena se si mettete un like iscrivetevi al canale che dire ci rivedremo tra un'avventura del gollacchi e l'analisi di qualche grande del passato e chissà magari anche del presente un saluto a tutti vi auguro buon sabato e alla prossima statemi bene grande bobby fisher fantastico niente fantastico panno